Tragico lutto per Roberta Capua. È scomparsa poche ore fa. Antonella Clerici e Simona Ventura le sono vicine. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Roberta Capua. Volto noto della televisione italiana. Ha annunciato con dolore la scomparsa di una figura fondamentale nella sua vita. Condividendo una foto commovente della defunta. La notizia ha colpito profondamente i fan di Capua. Che ha condiviso il suo lutto con poche ma significative parole. Dunque, Roberta Capua sta soffrendo moltissimo per questo lutto giunto nelle ultime ore. Si legge nel post. Evidenziando l'immensa sofferenza della conduttrice. A colpire Roberta Capua è stata la morte di sua madre Marisa Giossa. La prima Miss Italia del 1959 a Ischia. Ciao mamma. Ha scritto la presentatrice su Instagram. Marisa Giossa. Ha 85 anni. Ha lasciato questo mondo dopo una vita ricca di successi. La sua bellezza e grazia hanno ispirato anche la figlia. Che ha replicato il successo nel 1980. La madre di Roberta aveva superato un grave incidente nove anni fa. Dimostrando una straordinaria forza di volontà nel suo percorso di guarigione. La notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di condoglianze da parte di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra cui Monica Leo Freddi, Simona Ventura, Maria Grazia Cucinotta e Antonella Clerici. Che hanno espresso massimo supporto alla presentatrice in questo momento difficile. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.